4 case e 15 persone. Pochi minuti fa, su posto, si è recato il sindaco Marco Doria con l'assessore alla protezione civile Gianni Crivello. La situazione è molto delicata. Solo mezz'ora fa è stata aperta la linea ferroviaria Genova-Roma su un binario lato monte. Il caos è totale. Come potete vedere dall'immagine di Repubblica, in questo momento le ferrovie stanno facendo un soprallogo sulla linea per controllare la staticità della montagna.